Oltre la scuola, questa mattina il liceo classico Galilei Campailla di Modica, dove si è voluto parlare di legalità a 360 gradi, quindi non soltanto bullismo e cyberbullismo, ma di sicurezza con al centro i giovani, le nuove speranze per il futuro. Un'iniziativa fortemente voluta dal dirigente scolastico Sergio Caruba, che ha ospitato questa mattina il questore Vincenzo Trombadore. Oggi siamo onorati di avere con noi i suoi eccellenze questore di Ragusa, che insieme con la dottoressa Carpintieri, dirigente del commissariato di Modica, terranno un incontro con alcune nelle nostre classi per parlare di legalità in senso ovviamente lato, quindi non soltanto bullismo, cyberbullismo, devianza giovanile, problema della droga e tutte le cose che possono interessare i nostri ragazzi. Perché il nostro liceo, come sempre, è un liceo di eccellenza e quindi forma le nuove generazioni come cittadini, non solo come professionisti. Tra l'altro le scuole, questa scuola in particolare, ha già approfondito diversi argomenti a riguardo, sono le principali torrette di preallarme in situazioni, in fenomeni come questi sempre più moderni e attuali. Sì, sicuramente il problema esiste, il problema della legalità è profondamente presente nella nostra società e quindi è importante che i nostri ragazzi siano costantemente informati su tutte le iniziative che possono essere prese per volgere al contrasto dei fenomeni devianti. Il messaggio sicuramente è questo, noi diciamo sempre di incontrare i giovani, parlare di cultura della legalità perché saranno loro i prossimi dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Secondo me è un errore perché loro sono già attori attuali di quella che è una sicurezza condivisa. Parlo sempre di un principio, cioè del cittadino poliziotto, del poliziotto cittadino. Tutti noi dobbiamo sentirci nelle nostre prerogative distinte, giustamente, legittimamente distinte, dobbiamo sentirci sentinelle della sicurezza. E quindi quali sono le migliori occasioni, se non degli incontri con loro, nei loro ambienti che frequentano, cioè la loro scuola, per parlare di legalità, per comunicare come loro possono essere utili alle forze di polizia e come le forze di polizia possono sempre meglio collegarsi con le aspettative dei nostri giovani. E' stata già fatta una calendarizzazione di incontri tra i miei dirigenti funzionali e le vale scolaresche. E abbiamo iniziato fin dall'apertura del corso di quest'anno. Questo è il mio primo incontro, che voglio riservare, questo e tanti altri, in aree nevralgiche, dove posso comunicare, dove posso testimonare la presenza del questore, qua l'autorità pronunciata di sicurezza, a rilevare quelle che sono esigenze, ripeto, a individuare e da portare avanti e approfondire per la sicurezza tutta condivisa.